Non ci sono mai stato. Non ci sono mai stato, dice Marco, lì al Lago. Raffaella Grigi in collegamento da Anguillara. Nel frattempo ci ha raggiunto Chiara Rai, direttore dell'Osservatorio Laziale, che è una testata che fa molto di un'inchiesta proprio sui casi della regione Lazio. Raffaella Grigi, ciao. Sì, buonasera Marco. Da questo specchio di mare, come lo chiamano i genitori di Federica, al Lago, quel lembo di spiaggia scura dove ogni giorno si sono recati per cercare anche di capire. Forse Marco potrebbe sbrogliare qualche dubbio finito nel trittacarne di questa storia nera. Le indagini si sono concentrate, tutta l'attenzione su di lui, in apparenza e in sostanza, ma la Procura non esclude anche altre piste, quella di sconosciuti e anche di amici. Proprio per questo i difensori di Muro, formati da uno staff anche di consulenti tecnici, e di biologi, non tralasciano l'idea di indagini difensive, perché qualcuno potrebbe forse averla portata lì, di fuori di Marco. Ci sono domande da studio, Marco? Sì, sì, domande ci sono. Allora sarebbe confermato questa particolarità dell'automobile fidanzato lavata nel giorno di pioggia, quindi, la mattina dopo? Sì, mi sostiene di avere... Sì. La seconda domanda è questa. È vero che Marco non ha risposto al telefono quando il papà di Federica chiamava in continuazione, in piena notte, all'alba, quando si sveglia e non c'è la figlia più in casa? È vero che lui non ha risposto al telefono? È vero. Ecco. Perché quel telefono veniva usato dal papà, cioè, era il telefono del papà, ma lo usava sempre Federica, giusto? Esatto. Quindi è come se stesse chiamando Federica, non il papà. È come se stesse chiamando Federica e ricordiamo che Marco Di Muro, il 23enne ragazzo, ha lasciato Federica in mezzo alla via Anguillarese, all'altezza della Banca delle Marche, quindi in mezzo alla strada, la via Anguillarese è una via trafficata, pericolosa, in una notte di pioggia, l'ha lasciata lì, intorno all'una e trenta. Però poi è tornato indietro, è tornato subito indietro. È tornato indietro dopo nemmeno uno, due minuti. Perché lui lascia lei, probabilmente è stata una lì, poi accompagna l'amico un chilometro più giù, l'amico stesso vede Marco sgommare e tornare indietro. Esatto. Quindi è andata a prenderla. Quindi è andata a prenderla, non l'ha trovata. Quindi ricevere una telefonata da Federica, come hai detto tu Marco, giustamente, e non rispondere, Dopo poi un messaggio, ricordiamo che Marco, tornato a casa, invia un messaggio Facebook a Federica. A chi ora torna a casa? Alle 3.08 circa. È sicuro questo? Perché, a quanto pare, dagli inquirenti che hanno controllato comunque il computer di Marco, il messaggio Facebook è stato inviato a quell'ora. Alle 3.08. Allora la gambescia, allora le 3.08 sta a casa, questo non c'è dubbio. Allora, Federica sarebbe morta tra le 4 e le 5. L'unica possibilità, diciamo, nell'ipotesi che lui effettivamente sia lì, è che lui torna indietro. Insomma, torna indietro, che c'è mezz'ora con Formelo. Ci abbiamo pochi secondi. No, c'è un'altra possibilità, che in realtà l'ha portata già lì, in quel luogo, poi l'abbandona, e quindi lui torna a casa, ma la ragazza resta lì. Questa è l'altra possibilità. Grazie Paola Gambescia, grazie a tutti, purtroppo abbiamo finito il tempo, a Raffaella Grigi, di collegamento, a Maria Delia, appuntamenta domani, con la vita in diretta, insieme a Mara, e su Poveriggio, ora Carlo Conti, buona serata, ciao.